Volevo aggiornarvi sulle vostre carte d'identità. Aiuta lui che ne ha bisogno. A me non interessa. Il tuo caso è più semplice. Te ne vai in giro con certe brutte facce. Ti avevo detto di portarne 3.000. Dov'è la mia parte? Non ti fidi di me. Non posso neanche prendere la patente per la moto. Dovresti imparare da lui. Maturare un po'. Fermi! C'è il tempo! Senza soldi, siamo morti. Non abbiamo più niente! Ogni volta che ho combinato un casino, tu mi hai sempre fatto la ramanzina. Mi hai accolto quando nessuno mi voleva. Quando si sposerà e avrà una famiglia, pensi che vorrà ancora vedermi? Nessuno tiene a te quanto lui. Il canale Уc derecho a fare ancora più 얘는. Un'azimentale con vergograppare da повoce. Lo so. communication� Napoli.